Abbiamo corso molto, ci siamo allenati, è andato tutto bene. Bello anche essere qui con la tua famiglia? Sì, è molto bello, mi sono divertito un mondo. Dieci scuole da Umbria e Toscana per le mini olimpiadi della Rete Liberi di Educare. Siamo arrivati alla tredicesima edizione, siamo molto orgogliosi, molto contenti, si va da Terni a Sansepolcro, Arezzo e tutta la Toscana. La Toscana ormai è una partecipazione intensa, attiva da parte di tutti i bambini, che sono circa 250 e un gran numero di genitori che anche oggi hanno partecipato. In un contesto sicuramente di sport, ma anche ludico e ricreativo, abbiamo deciso di coinvolgere anche le famiglie. Questo per creare sicuramente uno spirito aggregativo ancora più stretto tra la scuola e le famiglie, ma anche tra le famiglie stesse. È una giornata stupenda oggi, il sole ci ha assistito, le mini olimpiadi sono fantastiche, tanti bambini, tanto divertimento. È stata una bellissima giornata, viverla insieme ai genitori delle altre scuole, anche insieme ai propri figli, è la cosa più bella direi. Quanto ti sei divertito? Un mondo. Siamo della scuola San Giuseppe Montecatini. È stata la prima volta una gara così, sono molto contenta. Più bello vincere o anche solo partecipare? Partecipare. Lo scopo e la finalità non è tanto l'aspetto competitivo, ma proprio la conoscenza del proprio corpo e capire chi siamo nella crescita. Quindi su questo, che è nell'ambito del progetto Crescere in Movimento, puntiamo molto e questa è una manifestazione che evidenzia il percorso. Grazie. Grazie. Grazie.